A Cireale Mazzara Io detesto quello che hanno fatto ma devo in parte giustificarli per lo stato d'anima e per quello che è successo in campo. Il Mazzara sapeva di non poter vincere in campo e le ha esticati per 90 minuti. Vedasi 7 ammoniti del Mazzara e uno solo della Cireale. Speriamo di arrivare alla fine e speriamo di arrivare in testa alla classifica da soli. La gara finisce uno a uno e la Cireale si morda le dita e forse anche le mani per quanto ha sprecato. La squadra di Busetta stringe in una morsa la Folgore intimorita e prudentemente arroccata in difesa. La differenza fra le due squadre è palese. La Cireale gioca al calcio, la Folgore no. Così breve di testa in avvio scuote la squadra di Ciampoli poi ci prova sempre di testa Policardi. Moncado da fuori aria non trova il varco giusto così come D'Agostino qualche minuto dopo. Ma al quarantesimo giunge la doccia fredda per i Granata. Vito Signorello, manco a dirlo, ex di turno, sorprende Giuffrida con questa sciabolata. Il gol ve lo facciamo rivedere anche perché resterà l'unica conclusione a rete della Folgore in tutta la partita. La reazione della Cireale è rabbiosa ma il gol giunge soltanto all'ottavo minuto della ripresa. Andolina è lesto a raccogliere questa corta respinta della difesa rossonera e c'entra con precisione l'angolo alla destra di Bulgarello. Poi un pizzico di sfortune e un po' di indecisione negano alla Cireale il gol della vittoria. Maggio è fin troppo sicuro mentre Chico è poco preciso. Ma negli spogliatoi c'è ugualmente soddisfazione, ovviamente più per il mezzo passo falso interno del Mazzara che per il pareggio ottenuto. Folgore ha giocato in 30 metri e noi in 70 metri, ma è stato un monologo nostro. Poi inaspettatamente siamo andati in svantaggio e quindi in quel momento lì poteva crollarci il mondo addosso. Ma ancora una volta i miei giovanotti hanno avuto la forza reattiva per poter impattare il risultato e poi siamo stati veramente scalognati a non vincere questa partita perché la meritavamo di vincere ampiamente. Campionato interregionale, girone N, quindicesima di ritorno. Agrigento Favara vittoria 3 a 1, a Caltagirone audace batte comiso 1 a 0. Folgore Cireale 1 a 1, Mazzara Bagheria 0 a 0, Nisse 40, Agrigento Favara 39, Scicli 35, Comiso e Paternò 33, Marsala 32, Niscemi 30, Bagheria Enna e Gangi 20.